Ben ritrovati articolo 21, le votazioni 14 e 15 maggio per rinnovare sindaci e consiglio comunale di Ponte Bugianese e di Pescia. Oggi siamo qui dopo questa carrellata di presentazione dei candidati appunto del Comune di Pescia e del Comune di Ponte Bugianese per capirci qualcosa su queste votazioni. Come si vota? Noi siamo in compagnia di Massimo Chiossi, avvocato dell'ordine di Pistoia, per tanti anni presidente di Seggio, quindi possiamo dire esperto di questioni elettorali. Sì, direi di sì, ormai l'esperienza porta al fatto che insomma dovrei riuscire a spiegare come si vota materialmente per le persone che si devono presentare al Seggio. Allora spieghiamolo anche ai nostri elettori, intanto facciamo un riequilogo di quello che è la premessa di queste votazioni. Come detto il 14 e 15 di maggio la prima votazione, il 28 e il 29 per il Comune di Pescia che andrà il ballottaggio eventualmente il 28 e il 29, si vota dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Con due diverse modalità, come dicevamo, per i comuni sotto i 15 mila abitanti come rientra il Comune di Ponte Bugianese a turno unico, per i comuni sopra i 15 mila abitanti quindi come quello di Pescia con eventuale ballottaggio. Però andiamo a vedere più nel dettaglio. Appunto come si vota? Che cosa vuol dire votare per un Paese, per un Comune piuttosto che in un altro? Sono due sistemi diversi. Sono due sistemi diversi, il discrimine non ce lo dà proprio la popolazione perché appunto la normativa prevede una differente tipo di votazione da sotto 15 mila abitanti a sopra 15 mila abitanti. Poi c'è un'ulteriore estensione da fare addirittura se il Comune ha meno o più di 5 mila abitanti e a cui arriveremo. In questo caso Ponte Bugianese rientra tra quelli che ne hanno più di 5 mila e meno di 15 mila. Allora partiamo da Pescia che ha con un censamento del 2021 19.223 abitanti per essere precisi e quindi adotta se non sbaglio un sistema maggioritario quindi eventualmente andrà al ballottaggio e poi vedremo come si va al ballottaggio. Quindi questo comporta che in realtà nel Comune di Pescia ci siano candidati a sindaci e liste di supporto che possono essere anche più liste che supportano lo stesso candidato. Il candidato che dovesse prendere la maggioranza assoluta cioè il 50% più 1 viene eletto sindaco direttamente al primo turno. Se però nessuno dei candidati come visto che sono diversi è possibile raggiungerà questa soglia del 50% più 1 di voti allora è previsto il ballottaggio 15 giorni dopo praticamente cioè la domenica e il lunedì successivo tra i due candidati che avranno ottenuto più voti. E quindi non c'è una maggioranza assoluta a quel punto chi ottiene più voti ha vinto nella seconda mandata. Nella seconda mandata chi ottiene più voti non c'è quorum deliberativo cioè quante persone vanno a votare va a votare una persona sola e lei indica un sindaco quello è il sindaco evidentemente di Pescia. Si rinnova anche il Consiglio Comunale. Esatto contemporaneamente ci sono le elezioni del Consiglio Comunale che quindi essendo Pescia un comune oltre i 15 mila abitanti abbiamo già detto che ci possono essere più liste che supportano ciascun sindaco ma la particolarità anche dei comuni dei 15 mila abitanti è che è possibile il voto disgiunto ovvero sia io potrei votare un candidato a sindaco mettendo la X sul nome del candidato a sindaco ma anche non solo chiaramente una lista a lui collegata ma è valido anche il voto fatto a un candidato a sindaco e a una lista che non lo supporta. Per fare un esempio pratico il voto disgiunto quindi è possibile in questo caso solo nel Comune di Pescia. Solo nel Comune di Pescia. E' possibile fare e dare il voto al candidato sindaco di centro-sinistra e con voto disgiunto dare anche una preferenza a un candidato consigliere del liste di centro-sinistra. Non solo ma è possibile intanto votare solo il sindaco, io posso votare con la X solo sul sindaco e questo voto va solo ed esclusivamente al sindaco, posso votare una lista e quindi se non indico il sindaco chiaramente andrà alla lista e al sindaco e questa supporta, posso votare il sindaco e la lista per fare più chiarezza ancora ma appunto come stavi dicendo posso votare un candidato al sindaco e una lista differente. All'interno della lista posso poi esprimere delle preferenze. Preferenze che in questo caso possono essere fino al numero di due purché venga rispettata la differenza di genere, ovvero sia un uomo e una donna. Posso anche nominare ovviamente come consigliere un solo uomo o una sola donna ma se ne nomino lui deve essere necessariamente un uomo e una donna. Termino dicendo, il disgiunto è possibile farlo col sindaco e con la lista, quindi io posso votare il sindaco e una lista che non lo supporta. Non è possibile il disgiunto sui candidati al Consiglio Comunale, io voto i candidati del Consiglio Comunale della lista che ho votato, non posso votare una lista e candidati di un'altra lista perché questo mi annullerebbe il voto. Ecco, in fase di annullamento infatti è importante, bisogna stare attenti, che potrebbe portare all'annullamento anche il fatto di votare due persone dello stesso sesso nel caso ci siano appunto... In quel caso è annullata la seconda preferenza. Quindi non la votazione in sé. Non la votazione ma la seconda preferenza. Varrebbe solo la votazione al sindaco. Varrebbe al sindaco, varrebbe anche alla lista in quel caso e alla prima preferenza. questo invece per quanto riguarda, l'abbiamo visto, il comune di Pescia, per quanto riguarda invece il comune di Ponte Bugenese che rientra nei comuni al di sotto di 15 mila abitanti, quindi con un sistema diverso di votazione, per la precisione 8.795 abitanti, sempre a riferimento al censimento del 2021. In questo caso come si svolge il votazione? In questo caso si svolge a turno unico, nel senso che... Quindi non c'è il ballottaggio. Non c'è il ballottaggio, strane in un caso di scuola, ovvero sia che i candidati arrivino tutti con lo stesso numero, non di percentuale, ma di schede uguali, cioè nel senso arrivassero a 4.001 entrambi, tra virgolette, allora si andrebbe... E' mai successo? Credo proprio di no, credo proprio di no, perché... E come mai viene riportata dalla giurisprudenza... Perché ovviamente la normativa deve essere, deve prevedere anche quelle che possono essere ipotesi assolutamente residuali, poi può darsi che in comuni particolarmente piccoli, sappiamo che ci sono in Italia anche comuni con veramente un numero di abitanti abbastanza irrisorio, può darsi che lì ci sia più possibilità che un caso come questo di scuola avvenga, un comune di 8.000 abitanti credo non sia proprio pensabile. Per raggiungere una curiosità a quello che stava dicendo del ballottaggio anche con i comuni di meno 15.000 abitanti, ci sarebbe comunque una successiva fase anche se il ballottaggio risultasse poi diciamo in parità perché si andrebbe a eleggere il candidato più anziano. Esatto, ma appunto stiamo parlando di ipotesi di scuola, quindi al 99,99% a Ponte Bugianese si vota in un unico turno, questo comporta che domenica e lunedì fondamentalmente poi chi candidato sindaco avrà più reso, più voti a prescindere dalla percentuale sarà il nuovo sindaco di Ponte Bugianese. In quel caso non è possibile il voto disgiunto invece, stropandosi all'interno di comuni entro i 15.000 abitanti io posso votare il sindaco e la lista a lui collegata, non posso votare l'altra lista o le altre liste. In questo caso ci sarebbe l'annullamento del voto. L'annullamento del voto, sì. Quindi attenzione. Mentre invece le preferenze rimangono fisse, ne posso dare all'interno di quella lista, quindi le preferenze per il Consiglio Comunale di Ponte Bugianese, posso darne fino a due e anche in questo caso un uomo o una donna. Se poi ci fossero elezioni di comuni al di sotto di 5.000 abitanti, in quel caso potrei dare una sola preferenza o uomo o donna, ma non potrei arrivare a due, dovrei darne solo una o un uomo o una donna, ma non è il nostro caso. Non è il nostro caso, né per Pesce ovviamente, ma neanche per Ponte Bugianese. Nel caso appunto di comuni come Ponte Bugianese, l'elezione dei consiglieri comunali è alla stregua di quanto avviene nel Comune di Pesce? No, è differente perché appunto in quel caso la lista che è collegata al candidato sindaco prenderà i due terzi dei seggi fondamentalmente e quindi poi il restante terzo viene diviso tra le altre liste a supporto degli altri sindaci che si siano presentati. Il primo a ottenere il seggio è il sindaco, il candidato sindaco e poi tutti gli altri consiglieri che sono candidati. Dicevamo delle preferenze, fino a due preferenze, sia nell'una caso di Pesce che nel caso di Ponte Bugianese e sono uomo e donna. Ripetiamo, è importante, nel caso io decido di darne solo una, cosa succede? È perfettamente legittimo, chiaramente se ne ho una non ho problemi di genere perché chiaramente posso scegliere uomo o donna, quindi fondamentalmente chiaramente se il voto sarà corretto con una preferenza a quel consigliere che ho scelto. Che cosa c'è da suggerire a chi va a votare? Di controllare la tessera elettorale perché ormai da diversi anni sappiamo che non arriva più il certificato elettorale a ogni elezione, che ormai è una ventina d'anni che non esiste più, ma abbiamo tutti la nostra tessera elettorale. La tessera elettorale ci viene timbrata tutte le volte che ci presentiamo a un'elezione. Questo comporta che ovviamente la tessera elettorale, per quanto abbia molti spazi, a un certo momento termina. Bisogna guardarla prima di presentarsi al seggio perché se ci si presentasse con una tessera elettorale finita, in cui non c'è più spazio, i componenti del seggio non ci potrebbero ammettere al voto. Questo comporta che se noi accorgiamo prima che la tessera è finita, possiamo attivarci prima con gli uffici elettorali del singolo comune e chiedere una nuova tessera elettorale. Ricordiamo comunque, scusate, sono aperti anche il giorno delle elezioni. Esatto, resteranno aperti sia la domenica che il lunedì, quindi è chiaro che se a uno dovesse capitare ha modo e tempo di recarsi in comune e rifarsi la tessera elettorale. Però se uno ci pensa anche prima, meglio, fa un viaggio solo al seggio invece di farne l'urso. Le ultime due cose, chi può andare al voto? Allora, trattandosi di amministrative, oltre ovviamente ai cittadini italiani, c'è da considerare i residenti cittadini dell'Unione Europea. Quindi i cittadini dell'Unione Europea residenti nel comune hanno diritto di presentarsi al voto. Maggiorenni, ovviamente. Maggiorenni, certo. Maggio di 18 anni. Lo spoglio delle cartelle elettorali, delle schede elettorali? Inizia il lunedì alle ore 15, cioè nel senso alla fine della votazione. Generalmente ovviamente i comuni più piccoli sono più veloci, perché hanno meno schede. Verrà fatta prima comunque l'indicazione del sindaco e poi il Consiglio Comunale. L'ultima cosa davvero, perché siamo in chiusura, si raccomanda che cosa agli elettori? Al di là del senso di responsabilità, di andare al voto, perché a volte ci sono anche dei consigli da parte di alcune liste elettorali, che non è il caso in questione, di magari una domenica col sole, fa caldo, di andare al mare. Ricordiamo che il diritto al voto è un diritto... È un diritto dovere. Poi qui stiamo parlando di elezioni amministrative, quindi stiamo parlando di persone che sono in contatto diretto con il nostro territorio, quindi fondamentalmente l'auspicio è che ci sia una buona affluenza al voto fondamentalmente. Delle recenti amministrative, quali sono state le percentuali di voto nelle ultime mandate? Il problema è che negli ultimi anni ci sono stati molti election day, quindi fondamentalmente il problema è che quando sono state riunite elezioni di un tipo con un altro, questo ha un po' variato il dato. Oggettivamente, mi ricordo le elezioni ultime di Pistoia sono state frequentate, ma non frequentatissime. Quelle precedenti, di cinque anni fa, erano state sicuramente con una percentuale maggiore. Allora, augurandoci che chi ha diritto al voto vada a votare, perché è un diritto importante anche per avere una voce in capitolo su quello che succederà nei cinque anni successivi all'interno del proprio comune. Ringraziamo l'Avvocato Massimo Chiozzi per essere stato con noi, averci un po' chiarito quelle che sono le metodologie del voto. Grazie a voi per l'inviso. Ricordiamolo, esperto di questioni elettorali, per il fatto anche che da anni frequenta i seggi elettorali come presidente di seggio e quindi grazie al suo intervento. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Vi ricordo che dalle prossime giornate, dalle prossime puntate, si ripartirà con i candidati sia nel comune di Pescia che nel comune di Ponte Bugianese. Grazie a Massimo Chiozzi. Grazie a tutti.